Buon appetito! 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 Secondo, terzo, terzo. Trova! 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 Cosa c'era dall'altra parte? Questa l'hai vista, vero? Era fuori gioco! Svegliati, arbitro! Guardate su, tutti, tutti indietro! Vai, nessuno! Questo che non passa! Mi tira da te, intattela lì! Nooo! L'ho dato? Sì! Sì! Oh, vi dovete svegliare? Sì! 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 Questa è la cagata, lo vedi? Sì! 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 Neves sei Scopi see! Il led si sta riscaldando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.